Coach Marco Gaspari, sabato il battesimo del fuoco, sabato la tua nuova pomica salmaggiore e andrà a far visita alle campionesse d'Italia del Moco Volley Conegliano in un palazzetto che tu peraltro conosci benissimo. Sì, finalmente sabato inizia il nostro percorso, il nostro viaggio che sarà molto molto importante, molto intenso. Di sicuro il battesimo non è dei migliori sulla carta, però penso che prima o poi bisogna giocare con tutte, quindi meglio iniziare contro la squadra che lo scorso anno ha meritato di vincere appunto il tricolore. Giochiamo contro una squadra attrezzata non solo per arrivare in fondo a livello del campionato italiano della Coppa Italia ma anche per puntare a una Coppa Europea molto molto importante. Quindi sappiamo di giocare contro un avversario molto molto forte in un palazzetto molto caldo, molto bello obiettivamente, però noi siamo lì per pensare al nostro gioco e per provare a portare a casa punti. Sin cui hai parlato del Moco Volley Conegliano, ma la Pomi come sta? Che Pomi vedremo sabato? Allora, la Pomi sta cercando la sua identità. Finalmente abbiamo tutte le ragazze, in questo momento è arrivata anche Reimova, quindi stiamo costruendo quello che sarà il nostro gioco. Di sicuro sanno tutti che sulla carta noi siamo una squadra completamente nuova, fatta di tutte giocatrici nuove, molte delle quali non hanno mai giocato insieme alle proprie compagne, però punteremo appunto sul creare entusiasmo il prima possibile, creare i meccanismi più semplici possibili affinché le cose possano andare bene, soprattutto nelle fasi di gioco standard. Di sicuro ci saranno, come dall'altra parte, perché è vero che Conegliano ha comunque giocatrici che hanno giocato insieme, ma ci sono sistemi e meccanismi nuovi, come all'inizio di ogni stagione, quindi sarà molto importante essere ordinati, soprattutto nelle fasi semplici. Come sta il capitano, Valentina Arrighetti, e come prosegue invece il recupero di Caterina Bosetti? Per quanto riguarda Vale, Vale sta recuperando, non sarà della partita, questo è fuori discussione, però sta migliorando giorno dopo giorno e sta iniziando appunto a lavorare nel campo, chiaramente in maniera analitica. Caterina sta sempre meglio, Caterina sta, non dico bruciando le tappe, perché era previsto comunque un suo recupero graduale, si è sempre allenata con le compagne, chiaramente con un suo protocollo di lavoro sia fisico che tecnico, è a disposizione, quindi non vedo perché in alcune situazioni non potrà essere utilizzata.